Meno di una volta sapete cosa c'è, non uomini, ci troviamo infatti all'altezza del corrigione interno della Basilica. Saliamo ancora con i detti ed eccoci al sottimento della Gaviria. Saliamo ancora con i detti e l'argano che serve il 22 gennaio in festa di San Rodenzio per calare il grande lampadario durante la cerimonia della benedizione dei fiori. Stiamo avvicinandoci alla cupola di l'epropia che è ritenuta la più alta costruzione.